Come ha detto Angelo si è messa in cammino, lo abbiamo fatto quando non ci credeva proprio nessuno, non era neanche un problema di sondaggi eh Angelo, non ci credeva nessuno. Oggi siamo una forza che comincia a crescere ma non ci accontentiamo e l'anno prossimo la seconda festa nazionale di alleanza verde e sinistra sarà ancora più grande, con più appuntamenti, con più occasioni di approfondimento, spero, con un partito, con una lista, con un progetto politico ancora più grande di quanto non sia già oggi. Grazie a tutti e a tutte e in bocca al lupo a tutti e a tutti noi.